Chi attraversa le dolci colline toscane, le uniformi pianure di Maremma, un tempo regno della macchia mediterranea e della palude, ed ora deturpate da una volgare edilizia, stenta a riconoscere in tanta diversità ambientale quell'antica unità territoriale, che gli antichi chiamarono Etruria. Attenzione, attenzione, belli e brutti, nasi lunghi e nasi corti, sta per iniziare Curiosando in Toscana, il programma che vi racconterà la Toscana tramite i Toscani, con la voce dei Toscani, e scopriremo così il loro territorio, la loro cultura e soprattutto il gusto.